destra mamma mia la connessione con il tuo pensiero si è interrotta ahahahahah che pollo bella ragazzi qui il vostro piena pinna e oggi siamo su fifa 14 per playstation 4 l'ultimo l'avevo fatto per playstation 1 no playstation 3 oggi è la seconda puntata di piena pinna vs il resto del mondo allora devo capire stagioni no sto morendo vai si invece la stagioni fa un culo a me e a chi non me lo dice ehm allora siamo uh no 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 vai facciamo vittoria zero ehm iniziamo col cagliari esatto ma c'è ancora oh ancora nangolan mamma mia così grandissimo taiwan che non se ne va a nella roma allora perché c'ho agazzi però abramo no si scarso zio adan che è un deportato della guinea noi abbiamo il barbo no facciamo subito attacco potente mi dispiace per marcolino sau facciamo moduli un 4222 allora però i barbo lo piazziamo te se ne fa cagare conti ok nangolan e va bene corso a destra no sinistra uggia barba a destra eeeh poi c'è pinilla e marcolino sau ok la formazione è fatta ragazzi adesso andiamo a darare e mangia banane se se cerchiamo qualche calamità innaturale ma sto registrando si sa sa sto ragazzo si ok dai nessuno che vuole essere arato uggh attenzione attenzione pisano ancora lui si avvicina la botta non va ragazzi dice di no uggh tenta nooo oggi sarà un cario benvenuti qui contro un qpr what marcolino sau marcolino sau marcolino sau marcolino sau marcolino sau marcolino sau zio marcolino dove voglio andare io oh 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 che no non si capisce un cazzo nella mappa cioè vogliamo giocare così dove va andare ahahah rimpalla guarda le guardaline n***a troppo swag no nooo madonna ma e fuori gioco cioè era da qua a d'Atlantide cioè si si è mia minchia avete colpi di testa peggio delle mucche non dargli il cartellino no guadaluco fai pinilla vai pinilla perché faccio queste cagate perché faccio queste cagate non tiro dai pisano non farti superare da un non swag tanto non si blocca lo sapevo no si vuole girare per tirare si vediamo il tiro e il gioco perfetto conti sau aaa no astori dalla ragazzi sti cazzi dai dai attenzione muru eh perché vai di alla su shhh gol wow wow eccolo la kosu sau no kosu chica chica eccolo la conti daniele conti per pinilla non ci arriverò mai madonna ma dai mi è fischiato un calcetto leggero nello stinco al portiere dai mai percheiii bloccala ma desene non l'avevo tolto da l'uomo chiusura buonissima l'azione non può procedere ha pollo un pollo coso ma madonna madonna mia ragazzi cosa combina questo cagliari cosa combina con astori ecco ecco merda nel nulla i giochi nel mondo kosu no saof c'è 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 due palloni in campo no no non volevo questo triangolazione del cof voglia storia non farlo passare e sto morendo così non dargli palla eeeh tutti fuori eccolo la pinila ti prego prendila attenzione si gira ah non va che quanto sono pollaccio quando vado in scivolata perchè ti metti a fare i tacchi madonna bestia dove puoi andare eh oh 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 ragazzi ci mette la pezza pezzo non è nemmeno ragazzi non è nemmeno ragazzi quello che ce l'è diciamo di potessi motorco vi anti sar kho 악 abbiamo attenzione pipi calze lunghe dice di no e stronzo johnson sette la mette johnson marcolino sauti prego tira 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 gol gol hanno uccanato con una mamma tua guardate gol che viene con gol che rimane in gol tira mamma mia con il segno di coltapessaro si è interrotta Che pollo Madonna Oddio Non è passato da me È il 45esimo Attenzione Il Cagliari vince a tavolino Così ragazzi Se vi è piaciuto Questo spezzone Mettete mi piace Commentate scrivendo Asdrubale Fra due ore finisce la Hellchild E quindi 3-0 Ma mica ho vinto 3-0 E quindi ragazzi Noi ci vediamo alla prossima Bella